Più militanze e attivismo, serve riportare alla vita politica attiva la gente, un partito che resti attivo tutto l'anno. Con questo spirito è stato dato il via al tesseramento locale nel PD. Un rilancio, afferma Giussi Fiore, consigliera comunale di Pagani, che scaturisce fondamentalmente dal senso di appartenenza al territorio. L'impegno è la volontà di dare un contributo precipuo alla crescita culturale e politica della città. Noi, come tutti gli anni, ci mettiamo in gioco, cerchiamo di creare iniziative che possano servire ai cittadini ad avere di nuovo fiducia nella politica, ma soprattutto fiducia nelle persone che fanno la politica da anni, stando sempre dalla stessa parte, nello stesso partito, perché condividiamo dei progetti di crescita per il nostro territorio che vanno oltre quelle che sono le ambizioni personali. Il PD è un partito che viene dal basso, quindi deve necessariamente riavvicinarsi alla gente e progettare con la gente. Sì, questo è il primo obiettivo che ci stiamo dando, cioè quello di ritornare tra la gente, perché abbiamo perso un po' il contatto. Io credo che l'autocritica sia fondamentale da fare, perché serve anche a migliorarci. E oggi ripartiamo con un progetto cercando di volgere lo sguardo ai giovani e a quello che è il loro malcontento e le loro difficoltà che vivono tutti i giorni nella città e nel paese in cui vivono. Il PD diventa di nuovo un partito attivista sul territorio. Sì, diciamo che a me piace ricordarlo come un partito che comunque nel nostro piccolo siamo sempre stati presenti sul territorio, abbiamo sempre cercato di accogliere le iniziative. Diciamo che intensifichiamo questa caratteristica che è quella di stare tra la gente e carpire quelle che sono le difficoltà che giornaliermente vivono i nostri concittadini.